Il dirigente Giuseppe Mingione dell'Istituto Superiore Eugenio Pantaleo smentisce in maniera chiara e netta le voci infondate sui presunti casi sospetti di Covid-19 nella sua scuola. Per tranquillizzare le famiglie, ieri la scuola è stata chiusa per la sanificazione degli ambienti e oggi l'Istituto è ripartito regolarmente. Che cosa è accaduto? Non è accaduto niente di particolare, semplicemente premettiamo che gli interventi di sanificazione sono previsti da fare periodicamente e chiaramente in un anno come questo ancora di più. Siccome in questo purtroppo momento di caos e anche di panico per il salire dell'infezione da Covid-19 stavano salendo notizie molto infondate e comunque un po' di panico perché noi abbiamo tantissimi studenti, sono circa 1.300, quindi basta una piccola notizia che gira perché ci sono delle situazioni di Covid-19 nel territorio ma assolutamente non riguardano il Pantaleo. lo voglio ripetere, non riguardano il Pantaleo. Purtroppo siccome per la privacy lì dove in alcuni istituti c'è questo problema per ragioni di privacy non si sa qual è l'istituto e non si sa chiaramente qual è la classe o l'alunno, ovviamente i genitori nella paura cominciano a girare notizie false. Per tranquillizzare ho anticipato semplicemente una sanificazione che era programmata più avanti e ho preferito farla. Mi sono chiaramente consultato con l'AS, con il medico interno e quindi abbiamo fatto una valutazione di tipo comunicativo, cioè abbiamo voluto comunicare comunque una tranquillità. Si può parlare di fenomeno psicosi in questi casi? Anche qui noi dobbiamo fare attenzione perché i mezzi di informazione e la scuola in questo momento dobbiamo fare molta attenzione a come parliamo, non voglio dire neanche che ci sia la psicosi. C'è una normale paura, chiaramente dovuto a un virus che si conosce poco e chiaramente c'è preoccupazione perché i contatti in famiglia e i contatti ovviamente che avvengono per strada o in varie situazioni possono portare al dilagare dell'infezione. Quello che invece vorrei fare è un invito educativo, cioè nelle scuole in genere, credo di poter parlare a nome di tutte le istituzioni scolastiche, stiamo facendo veramente il massimo. Però è assurdo che all'interno della scuola ci sia il distanziamento e tutte le misure previste dalla normativa, ma fino all'ingresso della scuola poi i ragazzi magari non usano le mascherine, sto facendo un discorso generale, non mi sto riferendo né alla mia scuola né ad altre. Però in generale per strada i ragazzi magari stanno senza mascherine, si abbracciano, si avvicinano, non tengono la distanza. Per non parlare a casa, per non parlare delle feste, per non parlare della movita. Quindi credo che sia importante in questo momento così delicato fare informazione ed educazione. Tutti dobbiamo rispettare dovunque ci troviamo le regole di distanziamento e di uso delle mascherine, che sono le uniche due armi che abbiamo. Più non si rispettano queste regole, in qualunque ambiente esso sia, e più saremo costretti, negli ambienti dove queste regole si possono attivare, a inasprirle. Quali misure di sicurezza sta adottando l'Istituto Eugenio Pantaleo? Stiamo adottando quelle previste dai vari regolamenti, il distanziamento, l'uso delle mascherine, il distanziamento nell'aula. La difficoltà sta nel fatto che, ovviamente, ancora ad oggi, purtroppo, i banchi monoposto non sono arrivati. E questo chiaramente ci crea non poche difficoltà. Nonostante le complessità del periodo, il Preside fa un plauso ai suoi studenti. La scuola e i ragazzi sono esemplari, quindi stanno rispettando, hanno capito il messaggio e lo stanno rispettando. Ci sono i percorsi d'ingresso, la misurazione della temperatura, insomma, sta funzionando, devo dire la verità, con grande soddisfazione. Che anno scolastico sarà? Sarà un anno sicuramente complicato, però dobbiamo essere positivi e dobbiamo, ripeto, deve diventare un'occasione di educazione, di forza e di capacità, di resilienza. E ai ragazzi che cosa chiede agli studenti? Bisogna assolutamente rispettare le regole, la distanza, la mascherina e l'igiene delle mani e dei contatti. Capisco che è complicato perché significa resettare i nostri comportamenti sociali, ma questo è, non è che abbiamo grandi alternative, altrimenti avremo sempre più un aumento dei parametri degli infettati. Che cosa chiede alle famiglie, quindi ai genitori di questi ragazzi? Aiutarci ad educare i ragazzi a rispettare le regole e soprattutto cercare di non fare la caccia alle streghe, perché questo è il perito. Grazie. 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 Grazie.